Posso dire solo che stiamo cercando di prepararla al meglio, come abbiamo fatto con la Spagna. Sicuramente sarà una partita più difficile e più dura, perché comunque sono i campioni del mondo in carica, sono una grandissima squadra, però anche noi siamo consapevoli del nostro valore, delle nostre qualità e penso comunque che la forza del gruppo, quella che abbiamo messo in campo contro la Spagna, possa mettere in difficoltà anche la Germania, se lavoriamo bene sui loro punti di debolezza. Faremo tutto il possibile per ripeterci contro la Germania. Ripeto, sarà una partita ancora più tosta, perché sono i campioni del mondo in carica e anche fisicamente sono messi meglio rispetto alla Spagna, quindi hanno un tipo di gioco diverso. Sarà dura, ci sarà sicuramente da soffrire, però come ho detto prima, se lavoriamo bene, la prepariamo bene ed entriamo in campo determinati, fin dai primi secondi come contro la Spagna, possiamo giocarcela benissimo. Allora, nel 2006 avevo 14 anni, quindi guardavo il mondiale a casa di amici e chiaramente ricordo una partita molto tirata, molto dura, che poi è stata sbloccata dal gol di Grosso. Ricordo che avevamo quasi distrutto casa dall'esultanza. Grazie.